L'assessore regionale della salute Baldo Guciardi ha raggiunto un importante traguardo per due località turistiche della nostra provincia. A Derice, dove da tempo si lamentava l'assenza di un mezzo di soccorso con medico a bordo, sarà presente un'ambulanza medicalizzata, mentre a Favegnana si provvederà a dotare l'ambulanza anche di importanti attrezzature elettromedicali. Abbiamo raggiunto telefonicamente l'assessore Guciardi che ci ha parlato dell'importante risultato raggiunto. Proprio oggi ho firmato il provvedimento di dotare Ericevetta di un'ambulanza medicalizzata, cioè con il medico a bordo. Credo che sia un risultato importante per la sicurezza dei cittadini di Cine, non soltanto dei cittadini di Cine ma anche dei turisti e di tutti coloro che frequentano questo importantissimo luogo turistico e culturale, non soltanto della Sicilia ma della provincia di Trapani ma dell'intera regione. Insieme a questo oggi ho disposto anche la dotazione di apparecchiature elettromedicali per l'ambulanza della postazione di Favegnana che si può ora trasformare in un'ambulanza medicalizzata. Credo che un buon risultato e un'ottima risposta per le esigenze di salute dei cittadini della provincia di Trapani. Credo che un'ottima risposta per le esigenze di Trapani.